Era 8-10 giorni che avevo sopra il tavolo una lettera anonima ricevuta presumo da un cittadino che si deve essere imbestialito quando ha preso una multa perché non usava correttamente la mascherina. La cosa poteva anche passare sotto traccia se non fosse per il fatto che se la prendeva ampiamente con la Polizia Municipale quindi ho ritenuto a un certo punto di sporgere denuncia per minacce. Nella minaccia è contenuto il riferimento a quanto non sia conveniente elevare sanzioni per il mancato uso dei dispositivi di protezione e l'avvertimento a quanto la divisa potrebbe non essere sufficiente a garantire rispetto e integrità delle persone che la indossano. Oggi il fatto è stato denunciato ai carabinieri proprio per tutelare gli uomini del corpo della Polizia Municipale. Perché a tutela di tutti e siccome non abbiamo mai inteso fare cassa con le multe se sono state elevate alcune sanzioni è proprio perché la volontà di tutti è quella di rispettare le norme che sono in uso, che fanno del bene a noi e agli altri. Un accanimento nei confronti di chi è tenuto a far rispettare le norme che non rappresenta un caso isolato. Risale pochi giorni fa l'episodio di vandalismo di cui è stato vittima il primo cittadino di Ponte San Nicolò al quale un giovane ha sfasciato l'auto colpendola con un bidone dalla spazzatura per vendicare le multe per il mancato utilizzo della mascherina prese dai suoi amici. Poi sono arrivate anche le gravi minacce via social. Ma poi anche nel scrivere, nel giudicare nei post successivamente che anche quelli forse sono stati più pesanti di distruggere la macchina perché hanno toccato ancora di più la famiglia del sindaco. Sanzioni che arrivano per tutelare la salute dei cittadini, soprattutto alla luce dei numeri. L'ultima settimana i contagi si sono se stuplicati.